Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Faccio questo video al volo per dirvi che ho aperto un profilo SoundCloud D'ora in avanti, ragazzi, pubblicherò lì i miei pezzi Chiaramente li pubblicherò anche qui su YouTube, sia chiaro Ma ho voluto fare anche questo salto su questa piattaforma Perché è da un po' che lo sto utilizzando Da circa 5 mesi e anni circa mi sono trovato molto bene Avevo già creato, diciamo, il mio profilo SoundCloud Però non ci avevo ancora fatto niente, mi stavo dedicando un po' più a YouTube E quindi ho deciso di iniziare anche questa avventura su questa nuova piattaforma Per chi non conosce SoundCloud, ragazzi, non si tratta di nient'altro Che è una piattaforma di musica, tipo Spotify Ma è completamente dedicata ai DJ Non al 99% dedicata, perché ci sono anche altri generi Ma la maggior parte dei musicisti che popolano quella piattaforma sono DJ Quindi io ho deciso appunto di aprire un profilo SoundCloud appunto per questo Se ho già pubblicato due cosine Che uno è il remake che avete ascoltato di Alan Walker E l'altro è Fire Che è il singolo prima di Ritual, diciamo così Quindi ragazzi io vi lascio il link sempre in descrizione Ve lo lascio qui, non aggiungo altro Vi lascio solamente qui il link di SoundCloud Per chi avesse SoundCloud tra di voi mi raccomando seguitemi Per chi non ce l'ha praticamente è gratis l'applicazione Quindi non vi costa neanche tanto installarla Come altra cosa ragazzi ho invece aperto anche un'email Che si chiama johnnycline.02.gmail.com In poche parole cosa ho scelto di fare Ho deciso praticamente di iniziare a collaborare con un paio di persone Voglio iniziare a farmi conoscere Voglio vedere un po' cosa riesco a fare insieme magari a qualcun altro Che sia magari più grande o magari più bravo di me Io comunque voglio cercare di dare anche il mio in queste situazioni Voglio appunto partecipare anche a questi tipi di progetti Voglio fare esperienza appunto in questo mondo, nuovo mondo della musica Questo piccolo progettino diciamo così Vorrei provare a collaborare con un paio di persone Vi lascio anche il link in descrizione Non il link più che altro Vi lascio comunque l'email qui sotto anche nella descrizione Oltre al link di SoundCloud E per chi volesse appunto collaborare con me Fare qualcosina insieme per quanto riguarda appunto brani eccetera Mandatemi un'email dicendomi voglio collaborare con questo, questo e questo Ditemi il BPM Ditemi magari mandatemi anche qualche bozza del brano E io sarò più che felice che darvi il mio contributo E fare un feat insieme a voi Un featuring diciamo insieme a voi Bene, io ho finito Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando seguitemi su SoundCloud Alla prossima, ciao!